Dandy, gentlemen e dandy lady sono arrivati da tutta Italia e non solo ad Arezzo. Per il settimo anno le vie del centro storico hanno infatti ospitato i Dandy Days, il raduno italiano dei maestri di eleganza, un appuntamento come sempre in concomitanza con la fiera antiquaria, scenario perfetto per celebrare l'eleganza. Abbiamo avuto un altro dei giorni importante e anche molto divertente con queste persone così eleganti, così equilibrate, così armoniche. Abbiamo fatto anche un talk show qui in piazza San Michele, lungo le vasche del Corso, intitolato anche i Dandy mangiano fagioli. Era un titolo provocatorio per parlare di sostenibilità, di territorio, di cibo, di artigianalità. Avevamo addirittura un sarto aretino donati, ma due grandi sarti napoletani e veramente l'alta sartoria è sostenibile. Anche quest'anno l'evento ha poi rinnovato il suo intento filantropico. I fondi raccolti saranno donati all'Istituto Tevenin. I Dandy si ricordano sempre di casa Tevenin, non solo questi due giorni, ma 365 giorni l'anno. Io li devo ringraziare perché dopo aver contribuito alla realizzazione di un progetto, che era quello di un minivan, questa volta contribuiranno per l'acquisto delle camerette per le neomaggiorenni. Davvero un grazie perché unitamente le istituzioni, ai Dandy, agli sponsor, riusciamo a mettere in piedi queste due giorni in maniera importante, trattando anche argomenti che potrebbero sembrare lontani da quella che è la nostra realtà, ma in realtà molto si avvicinano perché le buone maniere, una parte di educazione civica ormai persa è sicuramente importante rispetto anche alla nostra realtà. Grazie. Grazie a tutti